Momento quiz! Se fossi un agente immobiliare, come attireresti l'attenzione di proprietari che vogliono vendere casa? Risposta A, offriresti una valutazione gratuita. Risposta B, faresti capire che sei in grado di vendere la loro casa al prezzo migliore. Risposta C, la metteresti su subito.it. Quale risposta hai scelto? La risposta giusta è la D. Quante volte hai sentito un'agenzia immobiliare proporre queste minchia di valutazioni gratuite? Fanno tutti la stessa roba. E cosa fanno i proprietari? Si affidano a chi fa la valutazione più alta. C'è invece un altro metodo per attirare l'attenzione dei proprietari senza omologarsi a tutto il mercato. Ed è riflettere un attimo su quali siano i bisogni di chi vuole vendere casa. E questa è la risposta D. Loro vogliono sapere come aumentare il valore della propria casa? Devono pulirla? Devono fare le foto? Hanno bisogno di dare una sistemata al giardino? Hanno bisogno di un servizio di trasloco? Potrebbero aver bisogno di arredarla? Insomma, la soluzione ideale è creare ad esempio un PDF, un report, un video nel quale rispondi gratuitamente in anticipo a tutte queste domande. Dopo aver guadagnato quindi la loro fiducia, sarà più semplice chiedere un pagamento per risolvere i problemi rimanenti, come ad esempio vendere casa. Salvi il mio video e seguimi per altri consigli sul marketing.